cari amici sportivi ben trovati con il nostro appuntamento con rack magazine è un momento molto molto complesso molto molto duro per le formazioni reggine ma ne parleremo chiaramente partiamo dalla serie b andiamo per ordine di campionati e portiamo brutte notizie brutte notizie per la pallacanestro viola un passo indietro anche perché gli occhi dopo la vittoria contro bergamo quelli della speranza quelli potere credere nella remuntata potere credere un atteggiamento diverso sia in casa che in trasferta potere provare a vincere su tutti i campi da vicenza invece arrivano segnali pessimi le giornate passano il traguardo di conquistare almeno gli pareggi per la bi eccellenza sembra sempre più remoto e c'è tanta delusione tanta rabbia e tanta amarezza anche perché prima della gara contro vicenza gli addendi per cercare una vittoria a corsara c'erano tutti vicenza arrivava la sfida a quattro sconfitte consecutive la formazione locale appunto era orfana di una pedina cardine come il miglior marcatore della formazione rivelazione la prima parte del campionato ovvero carni vani e reggio calabria dunque invece arriva alla sfida dopo una sconfitta all'overtime subita contro monfalcone che si era riscattata successivamente battendo desio e soprattutto arrivava dopo la bella vittoria contro bergamo così non è stato non sono arrivate le giuste risposte dopo 18 minuti più o meno in equilibrio reggio calabria cede il passo a un break decisivo alla fine del secondo quarto senza una vera reazione un po come era stata a monfalcone questa mancata reazione non solo lascia amarezza negli occhi sportivi ma classifica alla mano diventa realmente sempre più impossibile sicuramente raggiungere il quarto posto dichiarato inizio campionato è realmente ormai un'utopia forse neanche vincendole tutte si potrebbe arrivare al quarto posto e fare gli spareggi per la serie a due arrivare agli spareggi per la b ed eccellenza significherebbe mettersene quattro sotto ma è realmente la concorrenza è spietata e questa squadra continua a non convincere o meglio convincere a sprazzi a intermittenza ci sarà una nuova sfida domenica contro crema nel ricordo di gustavo tolotti che potrebbe ancora dare un barlume di speranza ma il tempo ovviamente stringe siamo vicini all'ora x a quel punto probabilmente la stagione della parlare soviola diventerebbe realmente un incubo anche perché qualcuno potrebbe andare via e la stagione rischia di sgretolarsi mandando alle ortiche l'investimento del presidente la cana continua il silenzio stampa del club come è normale che sia giusto che sia ha parlato il presidente in settimana ma io sinceramente lascerei lavorare questo gruppo che probabilmente avrebbe bisogno di qualche cambio radicale o qualche presa di posizione altrimenti la stagione andrà via scemando così l'altro dato non vuole essere un alibi e che guardando alla classifica capodorlando quart'ultima ragusa terz'ultima palermo per ultimo reggio calabria ultimo posto vuol dire che per le siciliane e per la calabrese le trasferte sono sicuramente un'operazione off limits e ne sa qualcosa la palla canestro viola che è partita in giornata per andare a vicenza non reggendo botta ci guardiamo il servizio poi torniamo per parlare di serie c gold sarebbe stata una partita da vincere ma dopo l'ennesimo viaggio repentino e faticoso con gli alibi ormai lontani considerando che ci avviciniamo alla fine di giorni andata la palla canestro viola compie un nuovo passo indietro reggendo per 18 minuti circa sul campo del vicenza team che si rialza dopo quattro sconfitte consecutive che doveva fare a meno della pedina più rappresentativa ovvero carnivani sono sei i punti che separano la palla canestro viola dal solco il quarto ultimo posto micro obiettivo creatosi strada facendo per non tarpare completamente le ambizioni di un gruppo partito a parole non nei fatti con ambizioni d'alta quota l'inizio in attacco è scoppettante da entrambi i lati nel primo periodo con coaccilio che ripropone il quintetto alto già provato contro la virtù spadova poi il secondo fallo in pochi minuti di bassi lo costringe ad uscire mentre la palla canestro viola non ha ancora penalità a carico zocca in contropiede dal più 3 ma dall'altra parte balic con 9 punti in 10 minuti a tenere attaccata la formazione reggina tengono botta grazie canessi renzi spizzichini farina e balici reggiri ma il durare durerà soltanto fino al termine del secondo quarto anche perché il break importantissimo dei locali firma il 42 a 30 nella ripresa la difesa forte della formazione di vicenza prova a far scappare i locali fino al più 14 reggio calabria prova a rispondere in 5 minuti lotta e prova a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio arrivando fino al meno 8 vicenza però ne ha molto di più corsa e tiro specialmente da tre punti ancora più 14 sul tabellone elettronico con l'ex lamezzia ambrosetti che non la smette di far canestro reggio cade ancora nuovamente in trasferta non ha mai vinto lontano al palacalafiore e domenica prossima in casa contro crema dovrà provare a rialzarsi ancora termina 69 a 57 e non bastano i 19 punti del migliore marcatore del torneo andrea renzi parliamo di serie c gold campania partendo dalla sconfitta del rende ridottissima la formazione di coach per paolo carbone mancava milianic formazione che ha salutato denis padafora che per ragioni lavorative si è trasferito in piemonte il capitano il match winner nel derby contro il basketball la mezzia rende che compie un passo indietro anche perché la trasferta in casa di giovani del sant'antimo poteva essere alla parte alla portata invece i giovanotti campani dove gioca anche il nipote di manu ginobili franco si dimostrano all'altezza della situazione raggiungendo anche il più 30 e dominando la formazione calabrese non ha giocato invece il basketball la mezzia anche perché sarà rinviata la gara contro la cb napoli a causa dell'allagamento del palazzetto di pianura in campania trasferendoci invece alla serie c sicilia anche qui c'è un addio ma ne parleremo partiamo dal derby derby vinto con merito dal progetto catanzaro basket academy al palumaga contro la dr avvio convincente da parte dei reggini che provavano a sfruttare l'assenza pesantissima fuori categoria di giallorossi l'ex viola nunzio sabatino che abbracciava dopo tanti anni giovanni rugolo oggi allenatore della dr insieme andavano a comporre un gruppo bellissimo quello di ciccio ponticello quello che conquistò la serie a 2 silver in quel gruppo c'è a luca fontecchio il fratello di simone stella di juta jets capitano marco caprari alessandro piazza marco ammannato augustin fabbi francesco guaglia enrico germani e chi si dimentica insomma antonio loricci è un gruppo meraviglioso fantastico che ha scritto la storia l'ultimo decennio del basket a reggio calabria tornando al derby catanzaro vince con merito allunga per più volte in doppia cifra giocano molto bene agosto raffaele corapi di hop protagonista su della gara anche se la palma di mvp per i ragazzi di max aligliano e danielo marano vola nelle mani del playmaker andrea procopio sempre più cuore anima del progetto giallorosso lui è un canzare sedoc che ha preferito non puntare a vincere il titolo a pescara per provare a impensierire le compagniors di calabria e sicilia con la squadra della sua città l'adr ci ha provato l'adr non è in un momento di forma smaiante anche mentalmente anche perché ha subito una perdita ha giocato la sua ultima partita in canotta bianco blu un giocatore straordinario maniera pianista un ragazzo speciale a cui auguriamo anche noi il meglio giovani shalab a classe 2000 la bibbo valencia saluta saluto il basket per ragioni lavorative sperando sia un saluto temporaneo anche perché il suo nuovo lavoro gli permetterà strada facendo ritornare sul parquet è chiaro che per giovani rugolo per il direttore sacca per il presidente filianoti questa è una perdita che pesa pesa tantissimo anche perché shalab è uno giocatori forse il giocatore più impattante della storia della giovane dr sostituirlo sarà veramente impresa ardua sul basket mercato ne succede molti colori nei gironi anche perché in c campania registriamo la vittoria di mondragone che gioca l'ex viola camaluro bagnamo in casa del benevento che in casa solitamente riesce sempre a strappare un successo il successo di marigliano che ferma la corsa della one team caserta che restriscia di vittorie con un bel secondo posto e poi la conferma di angri che vince anche sul campo del potenza si conferma mazza grandi dopo aver già abbattuto la capolista del giro ovvero la power basket di salerno nel girone siciliano accade qualcosa di analogo anche perché piazza armerina cede il passo alla scatenata orsa barcellona è la prima sconfitta di piazza almerina capolista che il giorno 20 dicembre giocherà il trofeo dello stretto contro la vis reggio calabria poi ci sono gli svincolati milazzo ritornano al successo e battono la basket school messina all'interno di una gara dove si registra l'espulsione o qualche secondo di partita espulsione inedita clamorosa del capitano dei peloritani scimone non finisce qui anche perché ha giocato la vis in trasferta alla domenica contro la squadra del momento ovvero il castanea basket di messina forte del comeback del fortissimo giocoliere davis denafs ancora una volta tantissimi canessi realizzati per lui devastante sui due lati del campo forza forza fisica triple e atletismo per lui la vis dopo un primo quarto shock con un divario super ampio ci ha provato a ricucirla arrivando per due volte sul meno 7 buone indicazioni per martinez e per il comeback di fabio fazza di splendido al titolo da tre punti vince avanza anche la fortuna di messina che vince una gara non scontata in terra etnea contro il cus il derby di catania invece vola nelle mani dell'alfa contro il gravina cambiando invece campionato ci trasferiamo al basket femminile parliamo di centro basket canzaro le ragazze di coach chiarella ci hanno provato fino in fondo a impensierire la forza della capolista in battuta del giro nella new basket agropoli viene fuori una partita combattutissima avanti ccb nella prima parte di gara nel terzo quarto seca e compagna agropoli prendono in mano la partita che poi diventa equilibratissima sul finale e canzaro arriverà fino almeno due lamentando un arbitraggio non all'altezza obiettivo a questo punto le giallorosse non si nascondono più possono arrivare tra le prime quattro possono arrivare a giocarsi un playoff che promette scintille toccherà continuare a lavorare così ovviamente cambiamo campionato ancora serie di calabria anche qui l'equilibrio regna sovrano grazie alla gestistica gioiese di coach polimeni che vince la partitissima della domenica in un palamangione festante contro i giovani della bottegale basket agganciati sulla vetta della classifica classifica che diventa sempre più divertente sempre più equilibrata anche perché accanto a queste due ci sono c'è il pollino che vince con 29 punti di claudio falbo sul campo del bagnara e potenzialmente ci sono gli stingersi reggini di carlo sant'ambrogio che riescono a vincere contro la combattiva smalca avanzato tra le murami che hanno una gara da recuperare contro il cusco senza che si giocherà nel mese di dicembre a proposito di famiglia sant'ambrogio vi ricordo che il 19 di dicembre presso la palestra di santa caterina il campo all'aperto della scuola dedicata alla memoria di italo falcomata si ricorderanno nel migliore dei modi due figure importantissime nella storia del basket reggino cesare franco sant'ambrogio cioè sarebbe scomparso davvero recentemente franco è scomparso ormai cinque anni che avrebbe compiuto 70 anni qualche giorno fa avrebbe compiuto 70 anni entrambi giocatori con contrascorsi importanti entrambi dirigenti allenatori della pallacanestro entrambi figli di una famiglia storica del basket reggino dunque ci ritroveremo alle ore 17 presso la palestra di santa caterina per una kermess mini basket successivamente la santa messa proprio nel campo outdoor curata dalla parrocchia di santa caterina come è doveroso che sia poi tutti in campo tutti i ragazzi diventati oggi uomini che ovviamente hanno gioito hanno fatto canestro sono cresciuti anche a livello prettamente sociale non soltanto sportivo passando dalla gestione della famiglia sant'ambrogio che ovviamente è un pilastro del basket cittadino della storia del basket italiano noi torneremo torneremo anche per parlare di questa importante kermess vi ricordo l'appuntamento della pallacanestro viola giocherà domenica alle 18 contro il crema giornata dedicata alla memoria di gustavo tolotti non solo non solo anche perché si giocherà in c gold tantissime sfide anche in serie di dunque noi ci ritroveremo come sempre lunedì prossimo per raccontarvi gli accadimenti del weekend un caro saluto alla prossima